Beh, io non ho tempo letto a respirare che io esso disturbato per un uomini che vuole profittare della mia sapienza. Io ho, come sapete, un'itera che domanda mia attenzione. Estimate il professor Rampo, no, estimate, on deve specificare quanto estimate, tanto, tantissimo, enormemente, immensemente, on deve specificare quanto on estima. Normalmente io me refusa di legher e di rispondere a lettera tanto impolite, ma io, io suppone che, post che isto è le prime vizie che io leghe una lettera, in fronte a televisione, naturalmente, le scrittore non sapeva bene di isto. Ma io vole sperare che le seguente vizie on scrive al minus stimatissime. No, mi nome è Maria. Ah, no, io non comunico con feminas criaturas inferiore. Io ho 40 anni e vivo in Germania. E ti sei cura di questo? Il è un nome di questi giorni che Kosovo va a proclamare su independenza le 17 di februario. Probabilmente questa lettera arriverà a voi quando l'effetto hai venito. Io non ho il plazio di conoscere a questo signor Kosovo, ma l'infortunato è il che non conosce me. Ma io credo che se un persona si senti bastante grande e sicuro che il non necessita il supporto del parentes, io credo che il è su buon cosa che il deveni indipendente. Io, io memora che io deveniva indipendente a 8 anni. Ah, Kosovo non è su un persona. Va bene, va bene, ma on debere a specificare di che on parla? Il ha un region con le mesme nomine del signor Kosovo, come tutti sape. Io credo che se un' popolazione vuole avere l'indipendencia, il ha tutto il diritto di avere l'indipendencia. E se qualcuno in il region non è di accordo con questo, il potrebbe andare fuori, emigrare, il mondo è grande. Al contrario, io me congratulo con le cosacche pro este importante traguardo historico. E se l'es necessita un ministro del sapienzia, io es disponibile a prenderle rollo. Ollo!